Videoripresa in 4k con V21 5G, vediamo anche lo zoom, bel terminale, fotocamera principale da 64 megapixel stabilizzata, frontale addirittura da ben 44 megapixel, affrontiamo questo cambio di luce, tempo come al solito stile novembre, penso che sia una delle state più schifose come ho visto in vita mia. Molto bene la messa a fuoco, devo dire che il comporto fotografico è di assoluto livello, spostiamo un po' di roba, vediamo la nostra tartarughina, abbiamo preso la villetta nuova, ok, giriamo, e andiamo nella zona con pochissima luce, ok.